Franco Califano? Che ci fai lì? Sì, Tadurzo, non lo dico a nessuno, faccio una cosa e me ne vado subito. Ma come è riuscito a penetrare lì dentro? Vigilanza? Vigilanza? Bola, andiamo, andiamo. Dico, vabbè, per penetrarmi, che non mi è stato un problema. Io per penetrarmi sono capace. Anzi, se invece ti rompi, dico, dopo devo sentire femmina. Io Giorgi Agar parcheggiato qua fuori. La smetta, la smetta.